Ciao a tutti ragazzi, siamo tornati con il quinto episodio di Outlast, possiamo continuare? Eravamo rimasti qua, ok, eravamo arrivati da questo posto qua Qua c'è subito una porta, ok, quindi bisogna andare sopra per forza Oddio, si vede, non ce l'ho fatto a casa Oddio, non si può prendere una di queste, dai Siamo sempre infrarossi Non c'è niente qua, raga Da cazzo siamo andati? Oh cazzo Oh porca merda Corri 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 Porca merda Corri 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 ho trovato, ho trovato, raga, ho trovato, ho trovato striscia, 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 striscia che ci succede? sono dietro dai oh, apri, apri per forza qua, ma non apre vecchio di merda curati se a ferite non funzionavano i tasti dove cazzo bisogna andare lì? raga, ok, qua, ora, dove cazzo bisogna andare? ahhh mi drabisci non è così da parte, raga devo andare dall'altra parte non lo so ancora a cagare il cazzo stanno? non sembrerebbe, è finita la musichetta con in teoria l'insegnamento è finito aspettate un attimo qui non c'è niente perfetto, qua c'è solo un foglio, sì, perfetto ok non c'è nient'altro quindi possiamo tornare indietro di qua c'è una strada quante ne ha di batterie? tre voglio vedere che questo si alza? no, invece no cioè non c'è un cazzo qua? acqua raga, per forza devo andare là ma questo non è un armadio ah no oh cazzo dove siamo? papa Knot no, no, no ti prego basta in segmenti basta in segmenti che cagate ragazzi che si regolano su sti fogli presumo che la strada giusta sia quella finestra mi sa proprio di si come per curare le ferite? ma c'è una caduta apposta? e come cazzo me le curo? c'è così non basta schiacciare direttamente l'edizione vabbè guarda dove siamo arrivati noi c'è che canta vai là c'è il filo spinato qua ma tutto uguali sono vabbè eeeh oddio non me ne ho accorto dove cazzo bisogna andare? aspettate un attimo quanto c'è un foglio paura bambina eeeh gli obiettivi quali sono? cavalcare la recinzione ma qua c'è il filo spinato ma che cazzo lo scavalco? tipo qua? questo? bisogna usare questo infatti no cazzo no cazzo no no come cazzo si porta? rb mi pare di aver letto minchia raga c'è quella dove cazzo è andata? dove cazzo è andata? ah raga sono dall'altra parte mi ricordate quando c'è stata la luce che non potevo attraversare sono dall'altra parte beh iniziamo ad esplorare di qua va cosa sono sti fischi sto fischiettio stammi lontana perché questa mi segue? non mi rompere vecchiaccia oh un cavallo poverino qua c'è un foglio non è che la cucchiaccia mi viene dietro oh bene 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 ma ce l'hanno ridata ah c'è di tutto qua cioè raga non mi danno tempo manco di leggermi le cose io come cazzo faccio a leggerle? ma vaffanculo raggiungi la cappella come ci arriva la cappella? e soprattutto dov'è sta cappella? no merda via sempre sta bastarda merda è pure veloce oh sta figlia d'androcchia corri non corre eh vabbè mi ha ucciso mi ha ucciso non corre raga non corre non corre raga mi chiamano eliminando bolt usein bolt è diventato bolt dove devo andare eh raga ma se non mi dicono dove cazzo devo andare raga non corre più non corre più non corre più devo capire dov'è sta cappella devo portare quello lì ma come cazzo fai se c'è questa che ti insegue raga ho capito devo portare questo qua il problema è che se c'è questa che ti insegue come cacchio fai devo vedere se riesco a nascondermi senza farmi vedere oh era lontano adesso raga quindi non mi può aver visto infatti è scomparsa la musichetta prego un macello può spostare quello lì ma porca di quella puttana ma so sfigato cazzarola si blocca porca troia quanti fogli ci sono qua eh raga sto coso è possibile potrò portarlo lì non mi ha visto no raga non può avermi visto ero lontanissima bastarda mi ha visto come cazzo fa oh ha cagato il cazzo raga che palle che vuole nascondermi là ma sono stato sfigato adesso come prima raga adesso non può avermi di nuovo visto no infatti aspetta la muschetta prima è un porco giuda dove cazzo è cioè mi sono pure ferito cazzarola madonna stavo tirando sul barile sta lorita puttana se non mi vede mi provo no cazzo era lì ho capito per meno il giro cosa che giro fare comunque questo è più caga cazzi di quello del primo madonna santa che caga cazzi mi ha visto non sparisce la musichetta no sparita raga è andata a sinistra per voi di qua eccola uscita adesso proviamo a far come prima nell'erba qua non riesco a vederla non è che sta facendo il giro adesso è di qua e mi incula vedi qua raga ma cazzo mi ha fatto vedere lì perco giuda raga non riesco a capire dove andare non riesco a capire corri 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 vuoi morire corri testa di cazzo dov'è non corro raga non corro corri 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 voglio nascondermi qua dentro ma non corre raga ho paura che venga fuori devo trascinare quel cazzo di carrellino vicino al portone che c'è qua mi sembrerebbe non venire più qua ci vediamo raga vai vai ti ho detto usare la benda coglione che cazzo ero? dai raga dai raga sono sfigato rompi cazzo devo rifare la stessa cosa raga devo rifare la stessa cosa quanto cazzo di benda mi ha fatto consumare sta troia ma ma come hai fatto a vedermi? no no ti prego non uccidermi corri coglione ah non ah 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 No, 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 no. Raga Il video finisce qui Spero vi sia piaciuto Come sempre vi ricordo che se vi è piaciuto di lasciare un like, commentare e iscrivervi al canale Da Fabcani è tutto Bella raga